A differenza di molte altre razze di terrier sono cani estremamente socievoli, a differenza di tanti terrier sono meno rissosi, sono meno aggressivi, meno agitati, diciamo che sono cani che poi dalla loro hanno anche uno scarsissimo odore, quindi sono cani che anche una volta abbagnati lo puoi confermare, perché devo dire che in effetti… È una delle prime cose che si nota quando si…